Sta molto meglio, è un percorso lungo, però comunque è uscita fuori pericolo, quindi per noi questo già è un sollevo. Però il percorso è ancora lungo, adesso lei porta un busto e quindi non si sa ancora quando uscirà. Sì, vabbè, lei adesso sta iniziando a parlare, giochiamo, facciamo un sacco di giochi insieme, con la mamma, col papà, il nonno, la zia. Sta rispondendo bene, comunque, piano piano. No, facciamo le cose proprio normali, normali proprio, che in effetti diciamo che lei è caduta e si è fatta male, basta. E poi proseguiamo la giornata normalmente come se stessimo a casa. C'è stato quel barista che l'ha soccorso per prima, ci sono stati dei contatti con lui, insomma mi siete messi... L'abbiamo, mio marito l'ha andato a prendere, l'ha portato qui, certo non ha potuto incontrare Noemi, però ha incontrato la mamma e quindi lui è stato molto contento di questo. Poi quando sarà bene Noemi uscirà e lo faremo incontrare. Grazie. 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 Grazie.